Auto, mezzi, terreni e fabbricati, beni sequestrati dal valore di 10 milioni di euro di proprietà di una cooperativa del settore dei trasporti sanitari, finita nei guai al termine di un'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Pescara. Tra i reati contestati ci sono l'associazione a delinquere e la turbativa d'asta perché la cooperativa, secondo gli inquirenti, aveva offerto anomali ribassi dei prezzi per l'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza e in una serie di regioni, fra cui l'Abruzzo. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di sequestro preventivo dopo un'articolata attività fatta di intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, osservazioni, attività di intelligence. La cooperativa è accusata anche di sfruttamento dei lavoratori costretti a turni massacranti, senza ferie né contributi estraordinari. Inoltre, secondo l'accusa, il servizio di soccorso avrebbe avuto a disposizione un numero inferiore di ambulanze che non sarebbero state nemmeno sanificate. L'attività svolta dalla cooperativa non sarà comunque interrotta. Il GIP del Tribunale di Pescara, per evitare ingiusti licenziamenti, ha incaricato un amministratore giudiziario per la gestione e la continuazione del servizio sanitario a tutela dell'economia legale e della salute pubblica. Il GIP del Tribunale di Pesara